Buongiorno a tutti, ecco il primo video dell'oracolo di Manziana Introduciamo questo nuovo mezzo per fare una discussione un pochino più articolata rispetto a quello che può essere un grafico o un articolo che è tendenzialmente sempre molto breve Allora, questo video nasce un pochino per introdurre delle novità che sono state inserite nel sito in particolare la nuova sezione dei portafogli pigri in cui sono praticamente linkati una serie di portafogli che poi sono quelli del libro Stay Lezzy and Get Rich i vari Rumacone, Landlord, Il Lepidottero poi ci sta il NEP, che è un nuovo portafoglio Cotton Club l'Absolute Gold e infine una sezione completamente nuova che oggi andremo a introdurre dei portafogli classici Allora, relativamente a quelli diciamo in alto sono tutti i portafogli con il backtest sul sito curvo.eu i portafogli classici invece fanno riferimento a una pagina web perché su Curvo alcuni dei prodotti utilizzati non esistono andiamo un attimo a vederli Allora, oggi parlerò dei primi tre lasciando gli altri tre a una seconda puntata altrimenti stiamo qui un'ora i portafogli che vediamo sono il 6040 il 6040 Rate e il Golden Butterfly allora il 6040 è un portafoglio che è più o meno ideato nel 2013 come Benchmark poi fondamentalmente questo portafoglio è diventato una specie di portafoglio imbattibile però è stato tutto un caso 6040 è semplicemente un portafoglio di due ETF il primo è un azionario globale large cap il XMWO e l'altro è un obbligazionario europeo perché europeo? perché all'epoca non esistevano i global bond e poi comunque secondo la teoria diciamo originaria del portafoglio Vigro bisognerebbe comprare delle obbligazioni esclusivamente nella propria valuta quindi fondamentalmente portafogli costruiti con obbligazioni governative aria euro poi qui si aprirebbe un po' una discussione però diciamo che tendenzialmente questo secondo prodotto è abbastanza buono per replicare quello che in un contesto americano che poi è la patria della teoria dei portafogli Vigri sarebbe un ETF di Treasury ossia di titolo di Stato del tesoro statunitense questo portafoglio negli anni ormai partiamo dal 30 dicembre 2009 ha realizzato questo risultato 8,68% di rendimento annualizzato composto quindi un signor rendimento per un portafoglio di soli due ETF che onestamente anche quando lo creai era totalmente impensabile infatti all'epoca si pensava che un portafoglio che desse risultati soddisfacenti fosse composto da 4,5 ETF mentre invece alla fine questo qui non lo ha fregato nessuno poi oltretutto questo benchmark che non comprende i costi commissionali è un'altra serie di costi di ribilanciamento e sarebbe un pochino difficile da tracciare il secondo portafoglio il 60-40 rate praticamente ha la stessa suddivisione del primo tra azioni e obbligazioni quindi è un 60-40 però alloga il 30% dell'azionario su un immobiliare globale all'inizio era l'IWDP che è un prodotto della eShares a distribuzione poi sostituito da questo della Mundi viene un discorso di tracciamento perché questo invece è accumulazione allora perché nasce questo secondo portafoglio questo secondo portafoglio al di là della passione mattonara che tanto ormai i più conoscono nasce perché fondamentalmente il padre dei portafogli Biggie Svensson inserisce quest'asse class dell'immobiliare in tutti i suoi portafogli perché questo è vero che Svensson diciamo con il suo fondo dell'università di Yale ha vissuto e consolidato le sue teorie negli anni 70 e negli anni 80 in cui una serie di situazioni economiche shock petroliferi recessioni legate appunto a una pressione esogena sui prezzi delle materie prime energetiche fu caratterizzata da alta inflazione e bassa crescita economica ragion per cui in quel periodo fecero male sia le obbligazioni che le azioni specialmente una volta che veniva considerato la perdita di potere di acquisto quindi i rendimenti reali depurati dall'inflazione in quel frangente fecero invece bene sia l'immobiliare che l'oro allora svenso l'oro non lo considera come asset con le sue chiaramente ragioni le ragioni principali per cui alcuni autori non inseriscono l'oro è che l'oro fondamentalmente è un pezzo di ferro cioè non produce né utili né dividendi sta là forse recupera l'inflazione in alcuni periodi ha fatto molto bene in altri invece ha fatto uno schifo comunque se l'oro non lo mette questo portafoglio l'oro non c'è l'immobiliare in questo decennio ha portato al portafoglio un rendimento del 7,85 che è tanto è meno rispetto a quanto ha fatto l'azionario globale ma è un segno rendimento quasi l'8% annualizzato poi ora c'è chi dice che l'immobiliare è finito perché c'è il covid a parte che il covid si spera che prima o poi lo arriviamo dalle scatole ma tolto l'anno scorso in cui praticamente l'immobiliare è andato molto male chiaramente è andato molto male perché centri commerciali chiusi alberghi vuoti e quant'altro come faceva andare bene l'immobiliare ha perso 16 punti mentre l'azionario mondo ha fatto più 6 quindi praticamente questa differenza di performance che vediamo qua non dico che è totalmente dovuta all'anno scorso ma quasi totalmente ma soprattutto l'immobiliare è caratterizzato da una correlazione un pochino più bassa pur essendo un azionario rispetto a tante asset class quindi per esempio l'immobiliare è un pochino più decorrelato anche rispetto a obbligazioni cosiddette ad alto rendimento o spazzatura a seconda che vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto comunque questo portafoglio l'immobiliare morto quello che vi pare ha reso l'8,05 annualizzato per 11 anni di fila allora io chiaramente i rendimenti anno su anno a differenza di tanti youtuber di tanti canali neanche vi faccio vedere a me interessano i rendimenti di lungo periodo cioè non è che il portafoglio si va a valutare perché l'anno scorso ha spaccato il mondo e invece ha fatto schifo per 4 anni il portafoglio è una cosa che va valutata sul lungo periodo almeno i portafogli pigri poi se credete che c'è il guru dell'investimento e con il suo tocco magico riesce ogni anno a capire dove va il vento buon per voi tutte le statistiche che sono state fatte sul lungo periodo dicono il contrario però si può sempre credere all'eldorato a babbo natale al coniglietto di pasqua non è che abbietato però sappiate che in finanza oltre i rendimenti di mercato riuscire a battere il mercato è quasi impossibile non ci riesce più neanche Warren Buffett a battere il mercato ma ci possiamo riuscire noi ci può riuscire il manager pompato gonfiato ci può riuscire la Wood con i suoi fondi ARC a parte che i fondi ARC in Italia noi anche li possiamo comprare si gli ha detto bene un anno vediamo vediamo su 5 anni quanto tira fuori va bene allora passiamo al terzo portafoglio che vediamo oggi poi gli altri li continueremo ad analizzare nel proseguio è la farfalla d'oro Golden Butterfly questo è un portafoglio che io oggettivamente non avevo mai considerato perché l'oro non l'ho mai inserito nei miei portafogli ma andandolo a diciamo studiare un pochino mi sono reso conto che cioè questo Golden Butterfly oggettivamente non so perché poi alla fine la filosofia dell'oracolo è quella cioè le chiacchiere vanno bene ma alla fine contano i numeri andiamola a vedere questa Golden Butterfly qui c'è una dashboard un pochino più colorata ma non vi fate impressionare dei vari anni eccolo qua vedete che la Golden Butterfly ha un rendimento del 7,32 questo non è un rendimento annualizzato ma è una media quindi è un pochino diverso dai numeri che abbiamo visto sull'altra pagina un po' meno precisa però vedete che ha un una sciarpe quindi una rapporto tra rendimento tra rendimento e deviazione standard quindi un indice di volatilità qualsivoglia del portafoglio che è inferiore anche al 60-40 quindi fondamentalmente questo portafoglio che è strutturato così 40 azionario 40 bond all maturity stesso prodotto visto negli altri due 20% di oro ha molto ben figurato poi qualcuno può dire eh ma l'oro perché questo decennio è andato bene perché c'è stata l'espansione monetaria della Fed della BCE e di quant'altro tutto vero sta di fatto che questo portafoglio sia per i rendimenti delle singole asse class sia per il fatto che l'oro è molto decorrelato dalle altre dalle altre classi per esempio lo vediamo qui 2013 l'oro fa meno 30 l'azionario fa più 21 poi vado a ribilanciare e questa decorrelazione spinta tra le singole classi aiuta a mantenere alto il rendimento finale poi chiaramente anno su anno perché il ribilanciamento è impostato su questi portafogli anno su anno qualcun altro consiglia di fare un ribilanciamento allo scostamento massimo di alcune cifre quindi praticamente quando la percentuale mettiamo da 20 arriva a 24 allora vendo oro comprazioni io preferisco fare un ribilanciamento annuale più che altro per una questione di praticità perché altrimenti dovrei avere tutti gli alert che mi dicono quando ho superato lo scostamento massimo e a quel punto vanno a ribilanciare mentre invece se devo calcolare è lo scostamento il 30 dicembre lo calcolo il 30 dicembre comunque questo portafoglio anche di tutto rispetto ha quasi l'8% di rendimento annualizzato questo sempre sugli 11 anni quindi per il momento oggi ci fermiamo qua non vorrei esagerare con la lunghezza di questi video continueremo la nostra analisi in una seconda puntata degli altri portafogli questo questo foglio di calcolo viene aggiornato automaticamente grazie alla grande funzionalità che ci mette a disposizione gratuitamente google quindi praticamente chi va sul sito o sul thread portafogli pigri avrà automaticamente l'aggiornamento istantaneo delle quotazioni degli etf purtroppo i grafici finché non stanno su curvo.eu non si potranno vedere con i vari drawdown però voglio dire è inutile che siamo a fare i perfezionisti e vedere chissà cosa questi sono signori portafogli prendete rendimento su morningstar degli ultimi cinque anni di qualche fondo fetechia che vi hanno rifilato in filiale lo confrontate con questo qui chiaramente a seconda del vostro profilo di rischio vediamo che esce fuori per me quello che esce fuori è che vi hanno dato una sola però diamo il beneficio del dubbio a questi volponi gestiti alcun sculsulente di turno e vediamo che ha fatto comunque ci rivediamo abbastanza presto buona giornata e arrivederci grazie chi avesse qualche commento da fare mi può scrivere con il form apposito in contatti sul sito anzianafinanza.com sito di finanza indipendente e qualunque osservazione è ben accetta ancora buona giornata un po' un po' Grazie a tutti.